Dov'è Lorella? Stanno... Eccola qua! Eccola, ma che scarpe! Scarpe rosse per Capodanno, eh? Forse sì, hanno nuovo, vita nuova, Cribbio, ma... Oh, gonna direi, almeno credo che ci sia la gonna lì. Spero, ah, ecco, ecco. Vestito. Vestito. Bianco e rosso, nero. Caspiterina, sembra un... Ha letto i bambini, perché no. Beh, insomma, Lorella, che inizio, che fine d'anno. Eccoli qua, guarda, Lorella Landi e Luca Calvani. Cribbio, inizia il petto sabato. Buongiorno! Ma avete visto che passo felpato c'ha la Landi? Beh, beh, sì, sì. Meglio, meglio del suo, eh, Calvani. Lei è un bravo ballerino, ma la Landi... Grazie, grazie. Ed eccoci Luca, siamo qui. Fatemi una, per favore, la Landi. Sì, sì. Devo mettere... Landi, ma lei oggi ci fa sognare. Guarda, 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 guarda che scarpa. Ma grazie, ma grazie. U la la. Anche le unghie rosse, eh. Tutto un pandan. Eccoci qui. Eccoci qui. Villa, siamo giunti all'ultima puntata del 2008. Io non voglio toccarti di volte, voglio solo sistemarti. Giù le mani. Calvani. Calvani, per favore. Ma vede, non è accorto. Calvani. Uno c'è prova, ma vabbè, guarda avanti. Ma che fa? Comunque puntata, dicevo, di capire, giusto? È giusto. Siamo giunti all'ultima puntata, Luca, del 2008. Eh sì. E io voglio dare il mio buon pomeriggio allo studio, ai nostri tecnici, a Luca, ma soprattutto a Gianpiero Galeazzi e a lei. Che standing ovation, Gianpiero. Grande, Gianpiero. Sono avuto a sud, grazie, ragazzi. Peccato che non si vedano le scarpe con i tacchi di Gianpiero. No, non ancora. Non ancora dopo, Gianpiero. E soprattutto, Caterpillar, io vorrei dare il mio benvenuto, il mio buon pomeriggio alle innumerevoli fan di Luca Calvani. Bravi. Ora vi devo raccontare un piccolo aneddoto. Voi non sapete che praticamente le sue fan lo filmano anche in tv e dopo mandano su YouTube tutte le sue interviste. Ah, pure. Calvani, ma lei ormai è un sex symbol, l'abbiamo vista nella fiction, settimana scorsa. Maestro. Il maestro unico. Non ci credete mai a queste donne? E di fuori, diciamo, gli facevo, eh, gli facevo perché oramai sono tutto tv e famiglia, la tecno. Non giuro. Ci credete? Non giuro. No, io non ci credo. Caterpillar, sei bello, Lauro, ci credete? È il nostro, è il supplente preferito delle donne e delle mamme italiane. In questo momento noi col telefonino vi stiamo riprendendo e poi vi mettiamo su YouTube. Bravi, bravi, bravi. Contribuite anche voi a questa meravigliosa realtà internet. E sicuramente anche casa e famiglia e tv e anche il grande Giampiero Galeazzi. Grazie! 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 Grazie!